Musica Bello raga, bentornati su GTA V Lo so, sto a fare un mucchio di gameplay uno dietro l'altro Ma che volete farci, sto gioco non riesco a mollarlo Allora, siamo ancora qui con Trevor E ho deciso di andare a provare una delle missioni, diciamo, casuali Quelle con il puntino interrogativo, vediamo un po' che cosa ci offre Intanto come sempre siamo Zona desertica e qua si stava per mettere sotto quel povero Suo gattolino Credo scusa, mi è scivolato il dito Ho il dito un po' bagnato Quindi vediamo un po' che cosa ci offre questa missione Cosa c'è un po' Voi 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 Cosa cosa Ehi 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 Fai fuori 25 campagnoli di Soticoni Hanno fatto incazzare a Trevor Puttana Eva Eh? A chi è che avete detto vecchio? Forza Trevorone è un vecchio Fai fuori Filho di putana Tu mi insulti nella mia famiglia? No 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 Found my mother Sonина INIORE You can' Old man?! But how's this for an old man?! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! What is this, a family reunion? You're mine, man! You couldn't keep your mouth shut, could you? Oddio, lol! L'ho fatto fuori 46 campagnoli. Neanche un'arma in giro, cazzo. Wow! Minchia! Gran bella missione, raga! Ce n'è un'altra in giro... Da qualche parte, ma dove? Inghia, così lontano. Troppo lontano, a dire il vero. Ma non è un problema, facciamo così. Chiamiamo un taxi. Chiamiamo un taxi. Ah, pronto. Non è un problema. Un giovane è in strada. Buon lavoro. Bene. Ma viene il taxi, ci andiamo in taxi che si fa prima. Bene. Qui è in grado di sbagliare da mano. Qui ce ne puoi ottenere? Go! Qui è in grado di sbagliare da andare da raga. Qui è in grado di sbagliare da erano. voglio dire le sue scene e poi è uno di quello che insomma si incazza con un niente e' un'altra che si incazza che cazzo fa quel giustizio ross cilio e rai da spettacolare per te crani acce anna artist per te apropo stan stavo frizzi di strotzai ok allora credo che è proprio il mio piacere ti piace così che? e magari qualcosa come questo? hai piacamente? hai piacere? Oh, 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 wow, that's quite a woman there, huh? Oh, we are not worthy. We're not worthy. We're not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, uh, what's his name? Cranley, big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yeah, before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away, they're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins, it's such a business. Nigel's got an arthritic need. What do you, uh, what do you need? Just a few vinewood souvenirs for my museum. No, 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 look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best! Ah, a pair of fruitcakes. Nigel? Gente strana, veramente. Senti, va! Togliti che sta macchina non fa per te. Ah! Damn it! Look who it is. Larry Tupper! Oddio, e dov'è sto posto? Una parola? Ho la mappa io a casa. Non ne ho la più pallida idea di dove possa essere. No. Non ne ho la più pallida idea. Sono state contrassegnate sulla mappa. Che cosa sto usando? Violenza. Wow. Figo. 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 Sono state contrassegnate sulla mappa. Figo. Figo. Voglio la macchina. Figo. 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 Non c'è nulla! Sì, non è vero. Dov'è il coso lì della violenza? Ma è un po' lontano C'è un po' lontano Lo vroccano Uhhh WHAT salti, salti, salti mi sono cacciato nei guai raga, mi sono cacciato nei guai porca vacca scappa a piedi, scappa a piedi, scappa a piedi però sprega di trevor questi sanno sempre dove mi trovo anche se scappa a piedi ma aspetta, si 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 ah ok ok, mi hanno lasciato perdere allora siamo a punto di prima, volevo andare in quel cazzo di posto per un po' 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 di violenza pura metti in modo sta, sta baracca oh, Cristo, è vivo! io pensavo era un muretto io 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 Ehi, e se, che onda? Mangia facciole! Pezzo di merda! Sì, bella cazzata però! Dai, morite tutti brutti ricchioni! Cazzo! 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 Ehi tutti brutti pezzi di merda! Cazzo! 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 Cazzo!